Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, penso che i veri supereroi sono certe persone che riescono a farti cambiare l'umore in un secondo, ok? Che ne so, sei incazzato, pensi che la vita sia una merda, pensi che non te ne gira una, pensi che il meglio è già passato, insomma tutto il corollario da pessimista cronico, dopo trovi una persona, vedi una persona, basta un sorriso, ok? Basta un sorriso e viene cancellato tutto, magari una persona che neanche conoscevi, che conosci poco. E questo è chiaramente un superpotere, ok? Perché magari ci hai passato giorni, mesi, anni a essere triste, a non vedere via d'uscita, a dire che è tutto finito, dire che ormai c'era un mio amico che diceva sempre, ho chiuso il cuore, basta, non voglio più starci male. Dopo basta un attimo, ok? E viene tutto cancellato, come se una diga si aprisse e l'acqua defluisse, ok? Ripeto, penso che questo sia l'amore, l'amore vero, ok? Essere il supereroe di un'altra persona, ok? E allora pensi anche che hanno anche ragione quando dicono Ehi, sono solo cose, passeranno, e cose del genere. Perché è vero, cioè, so che è così. Io so che alla fine è come un interruttore, ok? Basta un... se ci pensate Entrate in una camera, è notte, è tutto buio. Cioè, non vedete niente. Premete un pulsante, pum, luce. Tutto evidente. Sapete come muovervi, sapete dove andare, in questa stanza, sapete cosa prendere, cosa fare. Cioè, è bastato accendere, premere un interruttore. E alla fine è proprio così. Cioè, arriva quella persona, arriva quel momento, arriva quel sorriso, arriva anche solo un ciao. E tutto cambia. Supereroi, appunto. Persone che riescono a cambiare il corso della vita delle persone. Purtroppo è vero anche il contrario. È vero che magari sei di buon umore, sei contento, sei felice. E dopo becchi una persona e niente. Ti si guasta l'umore e cominci a... A inveire, cominci a farti venire sangue amaro e cose del genere. Però... Questo è un altro discorso, ok? Penso che sia giusto anche concentrarsi sulle cose belle. E buonanotte. Grazie.